Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video finalmente Ieri l'abbiamo chiesto, ieri che abbiamo visto le immagini di GoldenPride Almeno io l'avevo chiesto se qualcuno sapesse quando ci sarebbero stati gli opening dei Creators Indirettamente ci hanno risposto Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre Aggiornati al mondo di Yuke non solo, grazie mille e benvenuti in un nuovo video di Solo Enigmista Perché la mia voce non è il massimo Allora, sono stati ovviamente, qui riprendono ovviamente il trailer dell'ufficiale di Yukeo Facendoci vedere Kash Tira, facendoci vedere l'Xis che sarà un grande problema Con le nuove carte Labrin, Dogmatica, Plunder Paddle, Generator che noi abbiamo visto mesi e mesi fa Ovviamente siamo andati, la cosa bella di questo canale è che andiamo proprio dall'inizio Vediamo tutti i set che poi dal Giappone arrivano qui Io che ancora li diamo con il nome giapponese perché sono deficiente Però insomma, molto bello Poi, le carte Gold Pride con le artwork Sono i Pirati dei Caraibi, meccanizzati, nei circuiti, non lo so Io ero molto in hype, non mi aspettavo per nulla i Pirati, meccanizzati, i robotoni, non me li aspettavo Che facevano le gare È tipo un mashup Pirati dei Caraibi, Fast and Furious, Transformers, non lo so Però potrebbe essere molto interessante come un mazzo Giovedì, giovedì, sapremo gli effetti di queste carte Quindi, oggi che giorno è? Oggi è martedì 24 gennaio Quindi giovedì 26 gennaio avremo le novità Quindi sapremo che cosa faranno queste carte Mi sa che di extra, credo che probabilmente ci sarà questo qui Questo sopra lo start Credo possa essere un mostro di extra Perché altrimenti questi qui me li vedo molto più di meno che di extra deck Questo che è gigante Che non ha neanche una forma Potrebbe essere di extra deck Quindi giovedì avremo la Premier con il Gold Pride E poi, vabbè, chi parteceva al Premier Event di Fondazione Per Nova Avrà Gold Pride Leon come ultra rara, come promo E finalmente, come ho evidenziato qui Venerdì, venerdì appunto 27 I Content Creator apriranno i pacchetti Così vedremo le ultime carte rimaste E tutte le rarità Quindi, molto molto bene Siamo molto molto contenti di questo Soprattutto io, perché così mi organizzo bene Della sera mi organizzo bene Dalle 5 in poi rimango fermo ad aspettare Che tutti aprono i pacchetti Così poi si può aggiornare tutto quanto E possiamo andare a vedere le carte rimanenti Con le rarità Bello, tanto sto male Quindi, adesso, rimango, gioco forza a casa Quindi non è, non è sto grande problema Anzi, meglio così c'ho roba da fare E vabbè, come centesima carta abbiamo il Mirror's Jade Che abbiamo ovviamente, ovviamente visto qui E qui ovviamente c'è il trailer di Yu-Gi-Oh! ufficiale Ovviamente tutta roba loro Assolutamente Non mi prendo carico di nulla Tanto l'hanno messo online ormai Non è che faccio niente di sbagliato Cioè, cavolo Quindi, avremo venerdì Tutte le carte Giovedì sapremo Gli effetti Cold Pride E questa cosa che usciranno In giorni differenti Sono molto contento Perché così non c'è un'ammazzata Così non è un Mappazzone E niente ragazzi Questo è quando usciranno Tutte le altre notizie Detto questo, quindi vi rimando Ai quei giorni Se vabbè, lo sapete Che tanto ogni giorno C'avevo un video nuovo Quindi, fatemi sapere voi cosa pensate Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti